Siamo nel post partita di Manfredonia Barretta, terminata 4-3 per il Barretta con il responsabile Giuseppe Lamanna. Giuseppe, quest'oggi è stata una grande prova dopo la sconfitta contro il Bitonto da parte dei ragazzi di Carbone che hanno dimostrato tanto in campo e si è visto. Sì, è stata una prova un po' strana perché poi alla fine se andiamo a vedere le palle goal, andiamo a vedere tutto la molle di gioco sviluppata durante tutto l'arco della gara, penso che abbiamo strameritato di vincere, non va bene l'ultima parte della gara circa 10-15 minuti dove addirittura li abbiamo fatti rientrare in partita dopo che avevamo avuto almeno 3-4 palle goal tra cui parate, palo, dove potevamo andare sul 5-1, finirla 4-3, mi sta un po' stretto. Però è una cosa che dovevamo comunque mettere in preventivo, abbiamo una squadra molto giovane, forse la più giovane del campionato, di questo non ne sono sicuro, però lo potrò dire magari a fine di girone d'andata quando avrò modo di affrontare tutte le partite, quindi noi lo sapevamo che un po' l'ascoltatura dell'inesperienza l'avremmo potuta avvertire, soprattutto in determinati campi, comunque qui fuori casa, in determinate fasi delle partite, però io sono contento dei ragazzi, sono contento del lavoro che sta facendo tutto lo staff durante il 19, sto notando una grossa crescita dei ragazzi, soprattutto del 2006, il 2007 che sta facendo benissimo, Alessandro Di Benedetto, nelle scorse partite fortunato anche, quindi bene bene, andiamo avanti così. Ecco, una squadra molto giovane ma molto completa, perché tutti i reparti hanno molti ricambi, abbiamo visto anche questo oggi con diverse sostituzioni, come ha detto anche il mister, ci sono anche ragazzi che non hanno ancora calcato il campo, ma che comunque lo faranno. Sì, una rosa penso che abbiamo allestito io e il direttore sportivo Angelo Piacenza, chiaramente con le scelte dettate dallo staff, penso completa, dove abbiamo potuto intervenire in maniera da fare appunto una rosa completa, dove tutti i ruoli hanno dei doppioni, in alcuni ruoli addirittura c'è il terzo uomo che può interpretare lo stesso ruolo, quindi penso che alla fine il mister ha a disposizione, seppur una rosa nel complesso molto giovane, ma una rosa completa per tutte le caratteristiche dei vari ragazzi, quindi va bene così. Come già ti ho detto prima, penso che questo gruppo non possa fare altro che continuare a crescere. Ovviamente lei si ritrova ancora con ruolo nel settore giovanile, con figure che non sono poi così cambiate rispetto allo scorso anno, come vi state trovando quest'anno e quali sono gli obiettivi? Ovviamente rimanendo sempre in tema, come già sappiamo, del percorso biennale che è stato fatto da parte del Barletta per quanto riguarda i ragazzi, per poterli anche far crescere per la prima squadra. Sì, il discorso biennale di cui parli è il discorso legato appunto a questa squadra qui, l'Ander 19, che è comunque Zeppa di 2006, quindi chiaramente hanno avanti sia quest'annata per quanto riguarda l'Ander 19, che è la prossima volendo. Per quanto riguarda nel complesso il settore giovanile, penso che gli obiettivi siano sempre gli stessi, cioè di migliorarsi, migliorare quello che è stato fatto nei primi due anni, dove io e Tonio Di Benedetto abbiamo assunto questo ruolo e questo onere qui a Barletta, dove è importante anche sviluppare questa parte della società, e quindi dai più piccoli, quindi i pulcini di 7-8 anni, fino ad arrivare appunto a questa categoria, che è la categoria più grande, l'ultimo scalino prima della prima squadra, chiaramente. Noi ci auguriamo di migliorare appunto i risultati fatti negli scorsi anni e di portare qualcuno lì su. Magari non impianta stabile nell'11 titolare della prima squadra, però magari di farlo affacciare e di fargli provare che cosa vuol dire calcare il campo del Purtilli davanti a 5.000 presi spettatori e quindi onorare questi colori che comunque sono colori importanti, una società importante e gloriosa. Cosa che è successo anche lo scorso anno per esempio con Marco Cafagna? Sì certo, Marco Cafagna è stato un gioiello per quanto riguarda il nostro settore giovanile, addirittura con il 2007 che lo scorso anno ha esordito in Sere D, quest'anno poi l'abbiamo ceduto al Bari con grande emozione e con grande soddisfazione, perché comunque fare il salto tra i professionisti è sempre una cosa importante che dà valore al nostro lavoro. In più abbiamo chiaramente Andrea Sfregola che comunque è nella rosa del Barletta dove ha già esordito in campionato, noi ci aspettiamo che nei prossimi anni ce ne possano essere altre di queste situazioni. E lo speriamo da avere. Grazie. Grazie.